A poco più di dieci giorni dalla conferenza stampa del coordinatore provinciale Fasano che aveva accusato senza mezzi termini alcuni esponenti di Forza Italia che non avrebbero sostenuto all'elezione il partito, è arrivata la risposta dei cosiddetti ribelli che già prima del voto avevano contestato le scelte per le candidature. Azzeramento del direttivo provinciale, questa la richiesta avanzata dal consigliere provinciale Domenico Di Giorgio che con gli ex parlamentari Amedeola Boccetta e Franco Cardiello, con Gaetano Amatruda e diversi amministratori locali hanno proposto la loro analisi del voto criticando quanto fatto. Nella sala giunta della provincia ad ascoltare anche il capogruppo al comune di Salerno nonché coordinatore della campagna elettorale Celano inviato a verificare la situazione è una delegazione della Lega. Il risultato che poi è arrivato è a conferma di una condizione generale del partito che contrariamente a quanto veniva sostenuto nelle settimane scorse all'esito del voto rappresenta un successo, al nostro avviso è una sconfitta cogente perché abbiamo perso la metà dei consensi ma soprattutto abbiamo dimostrato di non avere né un progetto politico credibile né una classe dirigente all'altezza del compito e questa non poteva essere che la conseguenza di tutto questo. Motivo per il quale essendo un tema ormai trattato a livello nazionale, quello di una classe dirigente autoreferenziale o si ha la forza e il coraggio di cambiare tutto e di rilanciare il progetto politico di Forza Italia o non c'è prospettiva. Non c'è comunque alcuna voglia di restare in silenzio ma di poter dire la propria per le imminenti amministrative nel Salernitano. Chiediamo alla classe dirigente di fare un'analisi insieme a noi e decidere insieme eventuali ricambi. Non è possibile che un commissario si dimetta e venga nominato un altro commissario sempre nello stesso club, sempre il club dell'amicizia, se ne va uno e ne viene messo un altro. I dati negativi in provincia di Salerno fanno riflettere non solo a noi ma fanno riflettere soprattutto a quella classe dirigente che in provincia di Salerno è stata assente. Tant'è che nelle prossime elezioni amministrative noi riteniamo che ci debba essere un confronto serrato almeno per poter presentare le liste laddove ce lo chiedono i nostri iscritti. Rischiamo di non presentare liste perché non c'è una classe dirigente locale che non viene premiata da parte del partito provinciale. E' evidente che ci possono essere differenti opinioni, è giusto che si dibatte magari all'interno del partito e non con conferenze stampe, anche perché noi abbiamo già pensato ad una manifestazione, ad una riunione del partito per discutere del risultato elettorale. I dati possono essere eletti a secondo di come si intendono strumentalizzare, però vanno contestualizzati per quello che è stato il risultato nazionale di Forza Italia. Ebbene è un dato di fatto che Forza Italia in provincia di Salerno ha avuto uno dei risultati più alti d'Italia, il primo della campania, il 22% al Senato, un risultato notevole che è in merito dei candidati ma dell'intera classe dirigente di Forza Italia che non va mortificata di quelli che si sono impegnati sul territorio della provincia di Salerno. E' stato un risultato considerato da tutti eccellente, l'analisi che è stata fatta dagli amici che ho ascoltato mi sembra irriverente rispetto all'impegno profuso da tanti militanti e soprattutto anche ad un'attività mediatica che a mio avviso è stata efficace ed ha avuto risultati eccellenti.